Da diverso tempo ci arrivano segnalazioni circa lo stato pietoso del fondo stradale di una strada molto usata e frequentata da coloro che devono recarsi alla stazione ferroviaria di Fano. Siamo in via dello Scalo che da via Dante a Lighieri costeggiando lo Sport Park arriva alle spalle della stazione di Fano. Lì decine e decine di pendolari, viaggiatori ogni giorno la percorrono, oltre ovviamente ai residenti della zona, per lasciare l'auto e prendere il treno. Il parcheggino lungo la strada è uno dei nodi di intescambio più frequentati della città e di conseguenza il manto stradale, mai rifatto, ci dicono i residenti della zona, mostra in tutta la sua evidenza il suo sfaldamento ed usura. A passarci sopra sembra di essere in un campo minato, dopo però che le mine sono tutte esplose. Buche profonde, diversi centimetri e larghe a decine, disseminate ovunque, evitarle è praticamente impossibile. Ma la cosa peggiora sensibilmente in caso di pioggia, sì perché gli avvallamenti degli stalli dei parcheggi delle auto e della strada si trasformano in un acquitrino dove uscire dall'auto e rimanere con i piedi asciutti è una vera impresa. Non chiedono altro viaggiatori e residenti, ora che la campagna elettorale è finita, ci dicono fuori onda, con tono speranzoso, non finiscano anche le asfaltature in queste zone, meno centrali della città, ma molto frequentate ogni giorno da migliaia e migliaia di cittadini che confidano nel sindaco di tutti, ma proprio di tutti.